hanno deciso di venire a conoscere questa tecnologia. Ciao Francesca, ciao Enrico, ciao a tutti, Antonio, insomma Mike, tanti amici, tante persone insomma che utilizzano l'S Drive da tanto tempo. E la cosa che dico sempre, chi non si forma si ferma, la nostra grande capacità che abbiamo è quella di, come dico sempre, mettersi in discussione, poter incominciare a entrare in un mondo che spesso magari pensiamo che non ci appartenga, perché pensiamo sempre che quello che ci hanno insegnato finisca lì, invece probabilmente c'è un mondo da esplorare straordinario. Quando parliamo di epigenetica parliamo veramente di qualcosa di importante, di rivoluzionario, di un mondo che mi ha appassionato fin da quando faccio questa attività. Io sono un tecnico, quindi parlerò da un punto di vista tecnico, ma mi ha appassionato perché è un mondo infinito, è una bellezza straordinaria quello di finalmente incominciare a entrare nel mondo della cellula. E naturalmente per entrare nel mondo della cellula ci vogliono degli strumenti che ci permettono di entrare nel mondo della cellula. Perché se è vero che tutto risuona, tutto vibra, tutto energia, allora andiamo a leggerle questa energia, questa vibrazione, questa funzionalità delle cellule. Altrimenti vediamo sempre le cose non a monte ma a valle e quindi probabilmente quella non è la vera prevenzione. La vera prevenzione è un po' tutte e due, incominciare a capire anche le cause dei problemi. E per questo motivo da ormai sette anni, quest'anno il settimo anno, organizziamo mensilmente questa formazione, divulgazione e stasera, tra poco, dopo la mia introduzione, ci sarà il grande Marco Stanton, che ricordo a tutti e ha proprio messo a punto il report che lui poi illustrerà di come si legge, come si interpreta, come si usa l'essereo. Faccio sempre una premessa perché ci sono tanti nuovi, allora permettetemi di condividere con voi alcune, di fare alcune premesse. La premessa è che sicuramente l'epigenetica è una scienza importantissima, oggi si parla di longevità, si parla di prevenzione, secondo me non abbastanza, perché se voi pensate che parlare di prevenzione, se è quella che poi ci permette di fare delle analisi e trovare il malato, o fare screening e dico, vabbè non ho trovato niente, ritorni quest'altro anno, quella non è una vera e propria prevenzione, la prevenzione dovrebbe essere veramente fatta per evitare i problemi. Come diceva Einstein, un uomo saggio evita il problema, un uomo intelligente lo risolve. Ben venga l'intelligenza per salvare la vita alle persone, adesso dobbiamo incominciare a capire come prevenire. E quando parliamo di epigenetica in una vera e propria rivoluzione, dobbiamo incominciare a parlare dell'impatto ambientale. Allora, amo a dire sempre che la vita è urgente, il DNA è nel tuo destino, vedete, secondo gli ultimi studi, come sapete, la PNEI, psiconeuroendocrinologia, perché se parliamo di PNEI dobbiamo pensare alla nostra mente, alle emozioni, a ciò che viviamo, alla gestione dello stress, alle relazioni. Quindi la mente è più forte dei geni, ce lo dice Bruce Lipton, ma nello stesso tempo bisogna vedere che terreno, quindi hai un reale rischio congenico, è un problema, da dove nascono questi reali rischi congeniti? C'è un'eredità epigenetica? C'è una costituzione differente tra individuo e individuo? E allora dobbiamo incominciare a parlare di cellule, dobbiamo incominciare a parlare di come gestire i mitocondri, la salute mitocondriale, il DNA mitocondriale, parlare di telomeri, di remitilazione del DNA, a parlare appunto del rimodellamento della cromatina, per esempio, quando parliamo di epigenetica, e quindi di impatto ambientale. Ma ancora di più dovremmo incominciare a capire come funzionano le cellule, se è vero. Quindi qui è proprio il fulcro di tutto, dove io dico, quando mi confronto anche con i vostri colleghi, professionisti straordinari, dico sempre, ma se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, cosa stiamo veramente facendo per riequilibrare quelli che sono le carenze nutrizionali di impatto che ci permetta di produrre l'energia ottimale a livello cellulare? Cioè questo è il focus dell'epigenetica. Cioè se noi siamo, o comunque se tutto ciò che facciamo ha un impatto notevole sulla nostra salute, a cominciare dalle cellule, dobbiamo capire come funzionano le cellule. Quindi cosa servono a cellule per funzionare in maniera ottimale? A cominciare dall'ossigeno e dall'idrogeno. Noi sapete quanto sia fondamentale produrre energia, ATP. Però se manca l'ossigeno è un problema, se l'ossigeno è carente è un problema, se l'ossigeno non viene consumato è un altro problema, quindi può esserci anche una disfunzione e si parla di infiammazione silente, per esempio. Ma se noi incominciamo a parlare di tutti i fattori, questi li conoscete benissimo, dall'alimentazione all'ambiente, allo stile di vita, allo stato emozionale, però pochi fanno i conti con un problema di un impatto ambientale degli ultimi 100, forse anche 150 anni, a cominciare dall'era del carbone, eccetera, eccetera. Pensate a Londra negli anni 40, cosa c'è? Dove c'è un impatto molto importante riguardo alla programmazione o sprogrammazione della salute a livello fetale. Pensate ai campi elettromagnetici. Finalmente incominciano a uscire danni danni da campi elettromagnetici importantissimi, ma anche del condizionamento delle abitudini che noi abbiamo riguardo alla possibilità dell'abitudine che hanno i ragazzi di utilizzare internet, di utilizzare i social, di utilizzare... Guardate, gli ultimi studi, ne ho pubblicato proprio uno poco fa sulla mia pagina Facebook, degli ultimi studi legati alle dipendenze da internet e dei nostri ragazzi. Veri e propri danni a livello cerebrale. Ecco, se incominciamo a parlare anche di questo, allora possiamo parlare di influenza epigenetica, di impatto ambientale, a cominciare dalla salute delle nostre cerebrali. A cominciare dal fatto, e guardate, qui ormai si insegna nelle varie università, questo è veramente importante, incominciare a capire che le alterazioni a livello cellulare sono le basi della malattia. Ma perché allora non facciamo i conti con quello che accade veramente a livello cellulare? O lo vediamo troppo tardi? Probabilmente l'analisi del sangue non ci dà una fotografia ottimale dell'omeostasi cellulare, perché ci dà poi un problema. E da dove nasce quel problema? Quali sono i fattori epigenetici? Questo è un libro bellissimo, io sono appassionato di libri, ne ho qualche 500, forse anche 1000, un migliaio ce l'ho. E questo è un libro che mi ha appassionato, il mondo della cellula, lo consiglio, è straordinario, dove si parla anche della quantistica, della biofisica, questo è un testo universitario, della cellula, un testo meraviglioso. E allora se le cause sono dalla partenza, dalla carenza di ossigeno, come dicevo poco anzi, gli agenti infettivi, fisici, chimici, nutrizionali, reazioni immunitarie, alterazioni genetiche, e dei meccanismi, e le conseguenze sono segni o sintomi, io devo evitare i segni o sintomi, perché è troppo tardi. Se noi parliamo di longevità, cos'è che ci porta alla longevità? Qual è il segreto della lunga vita? Abbiamo magari anche la professoressa Feno, che magari poi, se vorrà dire qualcosa anche lei, su quello che stiamo facendo, anzi, lo citerò. Quindi la risposta cellulare agli eventi lesivi è testimoninata da specifiche tipologie e modificazioni morfologiche funzionali della nostra cellula. Quindi danno cellulare. E qui ancora l'elenco, no, di quello che accade alle nostre cellule, a cominciare dalla carenza di ossigeno. E questo, pensate, che è un corso universitario, queste poche slide che vi sto facendo vedere. Allora, cosa stiamo facendo per evitare il danno cellulare? Cosa stiamo facendo per mantenere l'omeostasi? Cosa stiamo facendo per capire quale nutriente specifico ha bisogno della nostra cellula o quale impatto ambientale sta danneggiando la nostra cellula? Cominciare dal danno anche ai mitocondri, alla produzione dell'erosia, come ho detto prima. Ora qui è solamente un'introduzione, ma queste cose sono trattate nella scuola di alta formazione, che partirà tra l'altro, sesta edizione, parte a ottobre. Quindi per chiunque è interessato, scuola di alta formazione, a vostra disposizione, per tutte le informazioni. Allora, l'epigenetica è qui. Noi in questo momento, nel momento del concepimento, scarichiamo quell'app importante chiamata vita, quel dono prezioso della vita, però scarichiamo l'eredità epigenetica dei nostri padri e delle nostre madri. E poi lo sviluppo fetale determina la nostra salute nei primi mille-duemila giorni di vita, ma dove abbiamo vissuto fino prima del concepimento, dove hanno vissuto i nostri padri e le nostre madri, dallo stress alle tossine, al fumo passivo, attivo, eccetera, eccetera. Allora, l'inquinamento oggi programma o sprogramma la vita. E a livello proprio cellulare, dove vivono le nostre cellule, io amo sempre far vedere un acquario dove paragono i pesci alle nostre cellule, però pensate che qui progressivamente intossichiamo la vita delle nostre cellule e la funzionalità delle nostre cellule. Quindi interrompiamo o danneggiamo lo scambio di ossigeno nel sangue, lo scambio di nutrienti nel sangue. Quando tu vedi una persona che fuma e gli dici guarda che quel fumo entra nelle albevoli polmonari, entra a livello proprio dallo scambio di ossigeno nel sangue e entra nel sangue. Quelle tossine che tu fumi riempi i polmoni di fumo e poi quelle sostanze, oltre 5.000 sostanze conosciute, spesso, anzi, cancerogene, vanno nel sangue. Io dico ma com'è possibile che noi siamo diventati così? esseri umani che fumano le sigarette che sappiamo, no? Eppure questo è il nostro mondo. Pensate poi tutto quello che respiriamo dall'area che ci danno. Allora dobbiamo fare un passo indietro e cominciare a capire ma perché se noi siamo 25.000 geni abbiamo 150.000 proteine? Allora è vero che il DNA non è il tuo destino, che probabilmente tutto il software della vita ci permette di modificare la nostra funzionalità della cellula. Quindi il rimodellamento della cromatina, le modifica a livello istonico, senza modificare il DNA. Perché in che modo una cellula si differenzia per diventare una cellula cardiaca, cutanea, ipatica, pur avvento lo stesso DNA? Io dico sempre, mi permetto sempre di dire ma se una cellula c'è quel DNA quando si duplica ha lo stesso DNA, quando si differenzia ha lo stesso DNA. Cos'è che poi fa ammalare quella cellula in quell'ambiente o in quell'apparato, in quel sistema? Allora c'è un danno epigenetico. Il grande Burgio ci diceva attenzione, il 95%, le diceva addirittura il 98%, è tutta epigenetica. Ah sì? Beh, allora c'è un accumulo dallo stress all'attività fisica sbagliata o incongrua, al ritmo sonno-veglia, anche questo è un fattore, sono fattori epigenetici, sono fattori di rischio. anche quando parliamo di carenze nutrizionali, abbiamo sentito spesso ah le vitamine non servono a niente, scusate ma come mai l'Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana di Nutrizione Umana ci dice che abbiamo un fabbisogno di vitamine, minerali, aminoacidi? Se abbiamo un fabbisogno mettetevi d'accordo, come mai dite non servono a niente? No, sono importantissime, ma le assimilo, le assumo o non arrivano alla cellula. Anche qui possiamo ragionare. È perché hanno un ruolo fondamentale, basta pensare ai neonutrienti, sono molecole di segnale e noi abbiamo poi tutta una specifica di documenti che vi mettiamo a disposizione, qualora alcuni di voi lo sanno già, sono centri S-Drive, alcuni dove c'è una guida delle funzionalità di ogni vitamina, minerale, proprio per permettere di capire se mi manca la B12 perché devo dargli la B6 o l'acido folico perché è una moda, mi manca la B12, dammi la B12, a livello cellulare ho bisogno di queste vitamine, ho bisogno di questi minerali, se mi manca il calcio perché mi dà il magnesio, eccetera, eccetera. Lo stesso, gli acidi di grasse essenziali, ecco la tecnologia S-Drive ci permette di capire e poi naturalmente voi medici, professionisti, farete un aggiornamento da un punto di vista clinico rispetto all'approccio che avete con il vostro paziente. Però è chiaro che sapere se c'è un problema di sistema antiossidante è molto importante perché c'è un stress ossidativo, ho capito, ma da dove parte quello stress ossidativo? È sotto stress, c'è un danno ambientale, intossicato ambientale pesanti, ha un problema gastrointestinale, c'è una candida, quindi c'è un'acidosi tessutale, c'è una parassitosi, c'è un posti virosi, ecco questo è uno dei test più straordinari in grado di mappare questi fattori a scopo predittivo preventivo. E quindi anche l'impatto ambientale legato ai danni da campi elettromagnetici, legato alle sostanze chimiche, gli idrocarbuli, le radiazioni, i metalli tossici e questo ci permette di entrare nella biofisica perché siamo esseri cibernetici, vi ricordo che facciamo un encefalogramma per capire se il cervello funziona in maniera giusta, quindi misuriamo onde, facciamo l'elettrocardiogramma, la risonanza magnetica, l'ecocardiogramma, quindi vuol dire che anzi abbiamo addirittura come sapete tutte le strumenti tecnologici coadiuvati anche dall'intelligenza artificiale che sono strumenti che ci servono come screening per capire la funzionalità delle nostre cellule. Allora dobbiamo cominciare a ragionare anche dal punto di vista biofisico, la biofisica della cellula. Ecco perché questo test è molto interessante, ci fa capire in maniera come una bussola e ci orienta per quello che la cellula ha bisogno per funzionare in maniera ottimale o quello che la può danneggiare. E poi ci viene incontro l'intelligenza artificiale perché questo test ci permette poi grazie all'intelligenza artificiale e un algoritmo di rilevare questi segnali elaborarli e darci un report specifico personalizzato per il sistema immunitario questo è uno dei report per il metabolismo per la performance degli sportivi per la dieta per il bambino fino ai 12 anni da 1 a 12 anni per la rigenerazione delle cellule per la gestione dell'età estetica per ottimizzare per ottimizzare i capelli la pelle e le unghie poi a seconda della vostra professionalità o magari qualcuno vuole migliorare questo aspetto può scegliere il report che più di serve in quel momento stiamo lavorando con la veterinaria cani e gatti addirittura abbiamo teste per i cavalli e poi questo guida importante che noi rilasciamo proprio per interpretare al meglio come vedremo tra poco con Marcus il report vi faccio vedere dove siamo arrivati guardate è una soddisfazione immensa per noi per tutto il team grazie a medici straordinari che hanno ormai anche una una casistica clinica importante siamo stati invitati al ventesimo workshop internazionale di neonatologia e pediatria a Cagliari ringrazio molto il professor Fanos come sapete è uno grandissimo è uno dei primi al mondo sulla metabolomica la neonatologia 154 lavori scientifici solo sulla metabolomica e quando l'ho incontrato gli dissi la metabolomica ha qualcosa di straordinario ma anche lì noi cosa facciamo troviamo problemi quale sono la causa di quei problemi causa dei problemi oggi lui è stato così entusiasto di questa idea e possibilità che mi ha incaricato di organizzare una sessione dentro al congresso internazionale di neonatologia eccolo qua questo è il programma 25 ottobre 2024 non mi sembra vero presentarvelo e capire questa è una realtà pensate sette anni fa mi prendevano tutti per matto questo è un sogno diventato realtà dove presenteremo casi clinici l'importanza di questo test ma non è finita questa è la nostra scuola di alta formazione epigenetica biofisica nutraceutica nutrizione avete qui tutto il comitato scientifico saranno weekend veramente importanti quindi se siete interessati per il centro S-Drive c'è un trattamento particolare ecco perché perché io non posso leggere continuare a leggere queste cose sull'ansa l'inquinamento atmosferico induce nel cervello alterazioni neuroni come quelle caratteristiche della sclerosi laterale amiotrofica capite che e tutti dicono ah vabbè ah interessante e girano la basica no io mi fermo e dico ma cosa stiamo facendo per evitare che strumenti abbiamo oggi che strumenti ha il professionista per capire i danni che stiamo facendo a noi alle future generazioni guardate abbiamo lanciato questo test per le giornate senologiche nelle giornate di prevenzione quindi ci hanno chiesto di portare questo test e poi al poligono al polo di cerca ringrazio la professoressa Fenn che vedete qui sulla foto insieme addirittura alla presidente della regione Sardegna la TOD con il quale stiamo facendo abbiamo proprio istituito un polo di ricerca scientifica della salute di Astra dove hanno deciso di inserire insieme all'università di Sassari e anche all'università di Sassari questa tecnologica proprio per fare ricerca scientifica sui danni epigenetici e ringrazio perché è tutto un merito suo il grande Antonio Covieri questo è per te questo è il generale dell'aeronautica proprio il comandante di tutto di Roma che insomma addirittura ha detto finalmente qualcosa di innovativo e grazie all'intelligenza artificiale oggi possiamo utilizzare degli strumenti che possono fare prevenzione stiamo parlando di prevenzione e questa è un po' la foto importante che insomma qui sono grazie questa è la presentazione davanti a 400 insomma partecipanti dalla professoressa Fenn di questa tecnologia e di questo utilizzo di questo test e del sistema S-Drive è qui è proprio l'ingresso del centro di ricerca perché perché noi dobbiamo capire quali sono i segnali che lavorano sulla funzionalità delle cellule o stanno danneggiando ma è così vero che uno degli ultimi studi e poi si parla di trend e novità qui dobbiamo parlare di rivoluzione questa è una rivoluzione questa tecnologia è una rivoluzione i microRNA negli alimenti allora pensate questo studio pubblicato guardate impaffato il 4.8 quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente importante finalmente ed è uno studio italiano hanno incominciato a capire che ogni nutriente ogni cibo ha un segnale epigenetico che lavora sul metabolismo di arrivare cellule e organi apparati abbiamo fornito una visione completa aggiornata dell'attività dell'mRNA di derivazione alimentare nella salute e le malattie umane segnalando sia le questioni benefiche che il controverso alimentare come regolatore delle condizioni croniche quindi solite cose una dieta sana una scelta personalizzata allora io dico come faccio oggi a personalizzare una dieta secondo cosa certo secondo gli studi ma io non sono quello studio quello studio che hanno fatto in quella non sono io solo io sono un'altra persona che vengo da dei genitori diversi da quella persona che non ha vissuto in America o in Australia ma vive in Lunigiana che sono sano fino adesso e quindi come faccio io a essere paragonato a un'altra persona o un'altra epigenetica vedete qui si parla molto chiaro di questo del fatto che vedete fa bisogni individuali legati all'età allo stato di salute quindi è qui che siamo in grado di rallentare l'orologio biologico e noi adesso lanceremo anche un test per l'età biologica e anzi lo stiamo lanciando quindi se siete interessati siamo a disposizione quindi il ritmo solo proprio per delle scelte consapevoli che permettono di migliorare la qualità della vita delle persone ma non possiamo cambiare città casa e lavoro allora dobbiamo rafforzare il sistema immunitario incominciare a dire alle persone quando arrivano nel vostro studio ma tu lo sai che quando bevi dentro le plastiche o conservi i tuoi cibi nelle plastiche ti fai un piano di bisfenolo e bisfenolo è un interferente endocrino dicono ah no il bisfenolo l'hanno tolto sì ma ha messo il cile capite che ma dove vogliamo andare è un interferente endocrino in grado proprio di danneggiare la salute alterando l'equilibrio dello sviluppo all'interno dell'utero nella prima infanzia e questo ce lo dice l'EFSA ce lo dicono loro prima di dirlo ormai abbiamo fatto danni per intere generazioni con i biberon pieni di bisfenolo A siamo a 60% di infettività siamo a 1.24% di natalità come ci dice Luigi Montano troviamo microplastiche nelle urine umane nello sperma ma come possiamo andare avanti cosa abbiamo oggi io la faccio la domanda per capire i fattori che stanno danneggiando una persona dal punto di vista epigenico io lo chiedo a un professionista bene sì faccio un'analisi del sangue ottimo è importantissimo fare una diagnosi del sangue scritto tutto quello che vuole ma per conoscere quello che ha bisogno una cellula veramente o che danneggia la cellula oggi abbiamo pochi strumenti che possono essere paragonati a S3 poi magari le domande Giuseppe le faccio fare dopo te le faccio dire dopo quindi il discorso è il DNA non è il tuo destino e ce lo dicevamo nel 2010 la danneggiamo alla pancia a livello proprio a livello fetale quindi sprogrammiamo la vita dei nostri bambini e quindi dobbiamo farci questa domanda cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche e i fattori epigenetici danneggino le cellule la qualità della vita e la salute delle future generazioni si pensate che ancora oggi o si fuma o si svapa o si beve io dico sempre fumano a 10 anni bevono a 12 e fanno uso di sostanza stupefacente a 13 c'è qualcosa che va in questa società dove stiamo andando se poi ci mettete tutto l'inquinamento e il cibo spazzatura si salve e infatti siamo 40% dei malati cronici ecco perché stiamo collaborando anche con il dottor Antonio Di Malta presidente del COS quindi medici di famiglia che hanno deciso di incominciare a fare ricerca scientifica con la nostra tecnologia perché dice ok abbiamo tanti problemi troviamo malati ma non risolviamo il problema cosa possiamo fare se l'autismo è arrivato a 1 su 36 allora l'air se ce lo dice attenzione l'epigenetica sta sprogrammando la vita di intergenerazione allora dobbiamo riprogrammare in maniera corretta dobbiamo rimodellare in maniera corretta la cromatina dobbiamo incominciare a conoscere quello che danneggia e quello che è utile la metabolomica fondamentale però poi alla fine è molto costosa ma nello stesso tempo non ci dice alle cause noi dobbiamo andare alle cause dei metaboliti cos'è che mi ha causato quel problema del danno a livello lipidomico stress ossidativo infiammazione cos'è è una carenza nutrizionale o è un danno ambientale emozionale gas intestinale immunitario l'estetà è una bussola non fa diagnosi è diagnosi da far medico è uno screening poi dopo naturalmente le cose vanno approfondite con tutti i test che conoscete molto bene però dobbiamo conoscere i fattori che ci proteggono e quelli che ci danneggiano dobbiamo rimetilare il DNA il controllo dell'omocisteina già la conoscete questa storia è legata a 253 lavori scientifici della Blackburn legata alla rimetilazione e quindi alla lunghezza dei telomeri dove tutto questo accorcia i telomeri già dentro la pancia della mamma e quindi il danno lo facciamo qui 700 sostanze chimiche dannose nel cordone umbilicale capite che il problema dove sta distruttore endocchio qui il fumo ah sì è incinta ma fumi qualche sigaretta se no si stressa troppo stiamo scherzando ecco che insieme alla professoressa stiamo lavorando questo test epigenetico per la mappatura anche dei centenari questo è il test questa è l'immagine che è messa dal presidente del COS medici in famiglia dove utilizzerà la tecnologia S-Drive proprio per la mappatura dei danni ambientali questo è il presidente Antonio Di Maggi quindi dovremmo incominciare a prevenire le malattie la terosclerose è una malattia epigenetica epigenetica anche in età pediate i danni da campi elettromagnetici non mi sto fermo li conoscete già però ormai come mai il cellulare è diventato un babysitter come mai noi dormiamo col cellulare vicino al comodino se sappiamo che è così dannoso per la nostra salute come mai dormiamo col wifi sempre acceso viviamo in ambienti sempre ah se non c'è il collegamento wifi guai perché facciamo sviluppare i bambini qua e poi ci lamentiamo che stanno male e ce lo dicono già che le persone stanno aumentando stanno aumentando elettrosensibili con sensibilità chimica che c'è un danno mitocondriale che c'è una carenza di ossidio ora qui bisognerebbe stare delle ore a parlare di modulazione fisiologica beh conoscete self food che permette di riossigenare le cellule però abbiamo una possibilità enorme che è quella di evitare i problemi per la medicina personalizzata predittiva preventiva partecipativa dove per il professionista professionista io penso che stia cercando una metodologia che permette di valutare il tipo delle attività e relazioni diversi fattori incondizionanti della salute che crede nell'importanza della prevenzione che cerca un valido modello di indagini che cerca interventi terapeutici proporzionati all'entità del disturbo qualificare differenziare il rapporto dei pazienti con interventi personalizzati fidelizzare il paziente comunicare come si dice renderlo partecipe il paziente di quello che ha bisogno o che lo sta danneggiando e quindi ogni giorno nonostante esami approfonditi si presentano in studio pazienti con sintomi interazioni non classificabili lo sapete benissimo però fanno in giro delle sette chiese basti pensare a un fibromialgico pensate quanto gira per poi riarrivare riandare dal medico di famiglia e poi lo psicologo lo psichiaro e come facciamo qual è la causa allora i punti di forza sono questi dispositivo unico al mondo non invasivo si differenzia interventi personalizzati approccio più partecipativo e quindi professionisti poi formazione che seguono le innovazioni che le proprie necessità vengano comprese aspettative di un percorso personalizzato dimostrare avere ben in mente i loro interessi un voglimento all'interno del proprio percorso comunicazione comprensibile quindi questo è quello che noi offriamo questo test che è in linea con il progresso della medicina digitale e risponde all'esigenza del medico del paziente moderno riparlando di biofisica vi ricordo che già la risonanza magnetica è medicina biofisica quantistica come l'ecocardiogramma l'elettocardiogramma questi strumenti infernali perché perché se noi conosciamo con lo spettometro noi risaliamo alla sostanza del no vitamine minerali un arancio una mela quello che volete grazie allo stato elettronico e vibrazionale della materia questo all'università di Padova noi cosa facciamo facciamo grazie alla tecnologia S-Drive generiamo uno spettro che va in risonanza con quello che contiene il bulbo del capello capello un biomarco ormai conosciuto molto importante che archivia tutte le sostanze le tossine archivia tutto quello che accade addirittura anche lo stress vi ricordo che il il capello oltre per l'esposoma della persona è l'antenna che è tra il micro e il macro ambiente quindi è proprio dentro alle nostre matrice la NASA utilizza capelli per la salute degli astronauti ci permette anche di utilizzarlo dei disturbi psichiatrici è uno dei test più importanti proprio guardate per la riperattività dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene perché è il biomarcatore più affidabile per il cortisolo molto più che sangue o saline perché archivia l'informazione di tre addirittura anche sei mesi e noi lo utilizziamo per la salute dei centenari per la mappatura dei centenari e quindi poi abbiamo la possibilità di capire già un sistema dove andare a porre la nostra attenzione è un sistema cardiocircolatorio è immunitario è gas intestinale è lo stress è una sintesi proteica l'importanza di questo test poi lo vedremo adesso vado a concludere dicendo questa è la nostra tecnologia che utilizza e mappa oltre 800 marcatori chiave che ci dà una priorità di intervento che è nata pensate nel 2000 ci sono voluti 14 anni per metterla sul mercato quindi quest'anno 2024 sono 10 anni che è stato messo sul mercato a Bologna faremo quest'anno una festa straordinaria a parte il corso proprio sulla tecnologia S-Drive il 7 settembre a Bologna Hotel Sydney ma l'8 settembre il giorno dopo festeggeremo 25 anni di self food in Italia e 55 anni nel mondo abbiamo preso una sala da 600 posti quindi non mancate perché sarà un'esperienza meravigliosa con naturalmente i maggiori esperti di questo settore relatori straordinari e quindi vedete dal 2014 a oggi tutte le certificazioni che ci dicono che questo è uno strumento che ci serve per promuovere uno stile di vita sano per incoraggiare le persone a prendersi a cuore della propria salute per conoscere quello che danneggia o serve alle cellule questo è il certificato dell'FDA per promuovere la buona salute e uno sano stile di vita scusate questo è un doppione tutte le certificazioni poi sono a vostra disposizione basta chiederle e addirittura in Svizzera si è andato anche uno dei premi più importanti per la tecnologia avanzata nel 2021 report epigenetico senza dimenticare che tutto è meraviglioso ma senza l'amore per noi stessi la vita è il prossimo possiamo dire che la vita senza amore non ha senso grazie veramente di cuore a tutti voi